Arriva da Biella il nuovo rinforzo della Lux Chieti, Lazar Lugic. Ciao Lazar, che aiuto porterai a questa società e a questa squadra? Anzitutto cercherò di fare tutto quello che posso per aiutare la squadra. Stanno attraversando un momento difficile e io sono qui a dare una mano per uscirne il prima possibile. Ecco, sei da diversi anni in Italia, conosci il campionato di A2. Che finale di stagione sarà questo, visto anche queste interruzioni che ci sono per i ricasi Covid? Diciamo che quest'anno ho avuto la possibilità di conoscere realmente il campionato di A2, perché è la mia prima esperienza in A2. Sul finale della stagione spero di finirla in una tranquillità, senza troppi problemi, con questa pandemia, perché purtroppo è un anno veramente strano. E' un po' brutto da dire, voglio che finisca il prima possibile, però è stato veramente difficile giocare in queste condizioni. Ecco, vorrei un finale della stagione un po' più tranquillo. Ecco, dal punto di vista tecnico-tattico, in che parte del campo preferisce giocare Lugic? Beh, principalmente sono un esterno, una piccola, però mi piace giocare anche sotto canestro. Posso coprire diversi ruoli, posso fare tante cose in campo. Prego, il resto lo vedrete con la prima partita, dai. Prendiamo un ragazzo sicuramente con una prospettiva molto interessante, importante. Avevamo anche il dovere di mettere a disposizione del nostro coach un atleta che possa rimpiazzare qualcuno di quelli che purtroppo sono stati colpiti dal Covid. Chiaro che la stagione, per come si è messa fino all'arrivo del maledetto Covid, è stata comunque una stagione positiva, perché eravamo ottavi in classifica. E' chiaro che adesso dobbiamo recuperare diverse gare. Il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza, appunto per questo abbiamo comunque affrontato anche quest'altra spesa. E devo ringraziare tutti gli sponsor che sostengono questo progetto, tutti i dirigenti e coloro i quali lavorano per la Chidi Basket.